Centinaia di strade percorse e molte più parole scritte per raccontarle. In compagnia dello scrittore e giornalista Paolo Lulitz, un viaggio in più tappe per scoprire un paese nascosto sotto gli occhi di tutti. Potere evocativo dei luoghi pazzeschi. In cammino, sulle montagne, lungo le linee di trincea. Un posto dove si sente veramente il dolore degli uomini. Un viaggio nei luoghi in cui la storia ha tracciato indelebili cicatrici di guerra. Per capire la trincea ci vuole l'inverno. Per i viaggi di Rumiz, l'albero tra le trincee. Mercoledì alle 21.10 sulla F.